Matteo Rabottini sta facendo i rulli prima della prima tappa cronometro del Giro d'Italia Matteo, com'è questa gamba? La gamba esce bene dopo di giocare fatte in Toscana e speriamo di far bene al Giro Qual è il tuo obiettivo per la Corsa Rosa? Ma sicuramente vi consiglio di fare bene in qualche tappa Una fugata lontana è la tua specialità? Sì, ci proveremo l'anno scorso E non andiamo a passare, riproveremo a puntare dentro in qualche tappa Per vedere di riuscire a ottenere qualcosa di più Ascolta questa animarca come di sempre, fredda, ventosa, forse adatta a una fuga Sì, è molto freddo, quindi saranno più brutti questi due giorni qui in Danimarca Sia per le cadute, per il vento Grazie Matteo in bocca d'uco